...televisive, i più appassionati li avranno riconosciuti. Come sempre, come tutte le serate della Tomos Family, anche questa sarà una festa, un evento, una cosa speciale, con ospiti straordinari, anche stasera. Cominciamo con... Che dire? Non resta che chiamarla. Isabella Casucci. Grazie. Questo è un bel mio parito di famiglia, che si senta l'arrivo. Feel like making me love. Grazie. 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 La via! Grazie. La via!